E finalmente dopo anni di oppressione siamo liberi, il mondo si è liberato, niente più paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri, sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto, l'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà, perché io sono troppo libero, libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di seguire un'avventura, sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà, la libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo del bosco, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà, la libertà non è star sopra a un albero, non è neanche avere un'opinione, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Come un uomo che è voluto che si innalta con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, non addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione, la libertà non è uno spazio libero, non è uno spazio libero, libertà è partecipazione, la libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Grazie. Grazie.